Due giorni a tutta birra al Palabecci, porto turistico di Pescara, con il primo festival delle birre artigianali. Un evento promosso dalla regione Abruzzo con Arap, che è il braccio operativo. Ieri il taglio del nastro alla presenza del sindaco Carlo Masci e un convegno con Vincenzo Dincecco, capogruppo regionale della Lega, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo. Per l'Arap sono intervenuti il vicepresidente Maria Assunta Iommi e Romeo Ciammechella. Per il Dipartimento Agricoltura della regione Abruzzo, la direttrice Elena Sico. Presenti gli studenti dell'Alberghiero De Cecco con la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro. Carlo Paolini, referente per l'Abruzzo in Molise di Union Birrai. Intanto facciamo capire alle persone a casa qual è la differenza fra birra artigianale e birra industriale. Sicuramente esiste anche una norma di legge che indica precisamente qual è la differenza. La cosa più importante è sicuramente il fatto della pastorizzazione. Cioè significa che le birre artigianali sono comunque vive, non vengono appunto pastorizzate, che è un sistema per appiattire, diciamo così, fra virgolette, la birra. Ma soprattutto stiamo parlando di ingredienti di un certo livello. Nel senso che come qualsiasi ricetta artigianale c'è un'attenzione da parte dei birrai, in questo caso, ma di tutti gli artigiani, alle materie prime, a quello che poi l'utente finale, il consumatore potrà bere e quali saranno le sue sensazioni in bocca. Per cui questa è la grande differenza. Sul lato industriale, diciamo, l'obiettivo è quello di avere una continuità di gusto dovunque sia nel mondo, deve avere lo stesso aroma, lo stesso gusto. È diverso, diciamo. Parliamo delle birre artigianali abruzzesi. Come si collocano anche nei mercati? Allora, l'Abruzzo sta avendo dei grossi successi a livello italiano e anche internazionale. Abbiamo birrifici che prendono da anni Chioccio e Slow Food, abbiamo birrifici che prendono il premio a birra dell'anno che è il più grosso concorso birrario italiano organizzato proprio da Union Birrai. Abbiamo, due anni fa, nel 2022, il primo birraio d'Italia era abruzzese. Quindi andiamo a vincere concorsi in Belgio, con anche stili tipici del Belgio. Per cui, diciamo che qui c'è grande qualità, sicuramente.